Altrex series, il fiore all'occhiello di movement per quanto riguarda la tecnologia. In questo sci troviamo tutto il concentrato della tecnologia costruttiva di movement. L'anima in legno di caruba è ultra leggero, sono selezioni di anime scelte a mano. Al di sopra e al di sotto dell'anima troviamo un tessuto in carbonio composto da filamenti monodirezionali. Nella parte superiore dello sci troviamo sempre un tessuto di carbonio a 5 direzioni. Questo perché 5 direzioni? Perché ci permette di avere un controllo pressoché totale sulla torsione dello sci. Un sci molto reattivo che ha una tenuta molto grande soprattutto sulle nevi dure, nevi difficili, nevi ventate che possiamo trovare quando facciamo le gite di sci alpinismo. All'interno dello sci è posto un ABS, un ABS che entra fino all'anima in legno e che ha la caratteristica di rafforzare lo sci, quindi robustirlo, ma soprattutto di ammortizzare anche le piccole variazioni di neve o ammortizzare anche i sassolini che possiamo trovare sulla neve, quindi robustisce ulteriormente lo sci.